Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 1.201 nuovi casi positivi al covid e 32 morti. E quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute sono cresciuti ancora e ricoverati in terapia intensiva sette nelle ultime 24 ore e ad oggi sono 195, mentre sono cresciuti di 45 ricoverati in ospedale o raggiunti a quota 1.348. In isolamento domiciliare ci sono 21.289 persone. Il totale delle persone positive adesso di 22.832 guarite in 24 ore e 276 persone. Il numero di morti complessivo con i 32 di oggi è arrivato a 735. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 8.856 tamponi e così la percentuale dei positivi sui test effettuati si attesta sul 13,5%.